Eccoci qua, buonasera, purtroppo ho dovuto rimandare la sessione, dovevamo farla ieri, l'ho dovuta rimandare a stasera alle 8 e mezza, un orario sicuramente, probabilmente non comodo per la maggior parte delle persone, comunque la prossima volta, settimana prossima la faremo al solito orario prestabilito. Vediamo stasera come funziona la piattaforma strategica di ProRealTime, avevo previsto anche di usare MetaTrader, ma poiché per alcune ragioni non sono riuscito a tenere la sessione all'ufficio su questa macchina, su questo pc al quale mi collego, non ho la piattaforma MetaTrader, quindi non posso farvela vedere, ve la farò vedere settimana prossima. Vediamo adesso come funziona la piattaforma strategica di ProRealTime, che è la piattaforma che io uso per lavorare e serve per fare analisi strategica, cioè capire gli andamenti di mercato, capire in che direzione va la liquidità, quali sono i comportamenti del mercato e individuare quindi con un livello di precisione maggiore quali sono le condizioni di mercato. È una piattaforma eccezionale, è a pagamento, però c'è la possibilità anche di accedere ai grafici gratuiti aggiornati praticamente a fine giornata. Quindi per studiare è possibile avere i grafici gratuitamente, però sono aggiornati alla fine della giornata. Non so se poi questa condizione gratuita permane nel tempo, però è sicuro che è una piattaforma che vi aiuterà moltissimo con il lavoro. Vediamo come funziona, come è strutturata. Non è la prima volta che ne parlo, perché c'è stato l'oggetto di altre sessioni, però in questo ciclo di sessioni volevo inserire questo argomento perché nel nostro ordine cronologico insomma è giusto che ci sia. Ecco, questi sono i miei grafici. Mi confermate che vedete i grafici a video? Una conferma che vedete i grafici a video, per favore. Li vedete? Ok, grazie. Bene, questa è la piattaforma di ProRealTime. Consente ProRealTime di lavorare su time frame annuale, trimestrale, mensile, settimanale e giornaliero. Sulla piattaforma MetaTrader, per esempio, annuale e trimestrale non ci sono. Ok? E sono due time frame importanti perché la vista annuale dà una vista strategica su come sta andando la tendenza primaria. A seconda se il prezzo si trova sotto l'apertura o sopra l'apertura. Ok? L'apertura annuale. Attualmente vediamo quindi, quindi vediamo, diciamo non voglio parlare di come va il mercato, ma di come si usa la strategia, di come si usa la piattaforma. Ok? Su ogni grafico, c'è la possibilità di selezionare il time frame. Ok? Ogni grafico può essere unito praticamente a un gruppo. Questa è la versione premium della piattaforma. Ok? Questa è la barra ProRealTime Premium. Ogni grafico praticamente può essere collegato a un gruppo. Ok? Vediamo se riesco a rimettere tutto quanto in un unico monitor, così posso farvi vedere la totalità degli strumenti. Solo un momento. Vediamo un po' il lavoro di Resize. Perché la comunità di ProRealTime è che gli strumenti vengono praticamente gestiti con estrema facilità. Ora, la barra la mettiamo qui su. Non ho una configurazione salvata per questo schermo, quindi la salviamo adesso insieme. Vi faccio vedere anche come funziona questa cosa. Qui c'è la lista delle coppie. Ok? Qui c'è la lista delle coppie. Qui i grafici. Ecco, li attacco così. Qui mettiamo trimestrale e annuale. E qui mettiamo il giornaliero e il settimanale. Benissimo. Una delle comodità di ProRealTime è che queste configurazioni a video si possono salvare. Quindi praticamente io vado qui sopra, piano di lavoro, salva. Mi esce adesso sull'altro schermo il quadratino, secondo me. Vediamo un po', io ho più di uno schermo su questa macchina, due per la precisione, su questa qui, quindi... E non vedo... Vediamo se riesco. Ecco qua. E non riesco a farlo uscire. Comunque esce una schermatina dove praticamente è possibile salvare il piano di lavoro. Ok? Quindi lo salvo, poi vado qui, basta che ci clicco sopra e lui praticamente mi riconfigura tutte le schermate, tutti i grafici, gli strumenti sullo schermo. Unendo i grafici allo stesso gruppo, quindi gruppo verde, vado qui, scelgo gruppo verde. Quindi quando clicco su una coppia, automaticamente tutti i grafici cambiano. Ok? Prendiamo per esempio dei grafici puliti. Io ho messo uno di questi qua, penso, Forex Mini, prendiamo questo qua. Ok. Qui praticamente adesso posso cancellare tutti gli oggetti di questi grafici. Ecco, ho dei grafici puliti, i vergini. Una delle caratteristiche più importanti e più interessanti è che gli strumenti, gli oggetti, vengono ereditati automaticamente dai time frame più piccoli. Quindi se io vado qui sull'annuale e configuro massimo e minimo più significativo, per fare un esempio, ok? Automaticamente i livelli annuali vengono replicati a tutti i grafici. Se vado però qui a tracciare un livello trimestrale, lo troverò automaticamente sui time frame inferiori e non sul time frame superiore. E questa è una caratteristica molto interessante, utile, per lavorare e avere un certo grado di pulizia nei propri grafici. Perché in questo modo avrò solo gli oggetti inerenti al time frame di riferimento. Ok? E questo giova moltissimo alla pulizia dei grafici, perché se in un grafico annuale io vedo tutti gli oggetti anche dei grafici inferiori, perché praticamente si fa una grandissima confusione, ok? Invece in questo modo ho dei grafici puliti. Lo stesso praticamente vale per le trendline. Io posso configurare delle trendline sul mensile, per fare un esempio, ok? Vengono ereditate sui time frame inferiori. Posso tracciarne una sul settimanale. E la vedo sul time frame inferiore sul giornaliero. Ok? Se vado a tracciare una trendline su questa tendenza giornaliera, mi uscirà sul time frame intraday inferiori. Non mi uscirà sul time frame superiore al settimanale. Infatti qui prendo un grafico H4, per esempio. Ok? E queste trendline mi sono uscite automaticamente. Chiaramente vanno un po' aggiustate, le sto mettendo un po' così alla linfusa. Un'altra delle caratteristiche importanti è che posso usare un time frame custom. Posso usare un time frame a sei ore, a cinque ore, ok? Oppure a due giorni. Un time frame a sei giorni, a nove giorni, a dieci giorni. Può essere interessante avere, è utile per avere delle viste custom. Per esempio a time frame bimestrale o semestrale, per esempio. Ok? E questo ha il suo perché, insomma. Anche, mi ricordo, anche sul libro di Gerosso, lui consigliava, incoraggiava l'uso di time frame custom per avere delle viste non necessariamente fisse, ok? Perché? Perché noi quando studiamo un grafico, studiamo l'andamento della liquidità. Allora, a volte in base al funzionario del broker o in base a un time frame, se il time frame specifico, se determinate dinamiche cambiano, possa avere una visione falsata. Per esempio, capita che quando osservo una barra di trend, la tendenza termina prima della chiusura della barra. Quindi le prese di profitto iniziano prima, ok? Significa che posso avere di fronte a me una barra che identifica una fase di trend, ma poi in effetti vedo una barra di collasso. Se vado poi nello specifico a vedere, mi rendo conto che in effetti è una normalissima fase di trend. Però posso essere ingannato da questo comportamento, da un comportamento anticipato del mercato. Attraverso, chiaramente, una visione strategica mi rendo conto e questo può essere utile, quindi una piattaforma di questo tipo è utile perché mi dà gli strumenti per vedere a fondo quello che sta succedendo al mercato, ok? Vediamo, altre caratteristiche sono che posso, per esempio, creare dei grafici non collegati al gruppo, per esempio questo grafico qui lo collego al gruppo blu, quindi gli altri grafici mi cambiano, ok? Poi vado qui e decido di aggiornare solo i grafici collegati al gruppo blu, ok? Per avere sulla mia piattaforma, sul mio monitor, più viste per osservare i mercati differenti. Ok? Poi posso cambiare e lui si aggiorna direttamente al gruppo di riferimento. Tutte le modifiche vengono salvate, ok? Posso poi andare qui, salvare le modifiche e salvare poi il piano di lavoro. Ma comunque il fatto che cambi poi il grafico non significa che vada a perdere le modifiche, ok? Automaticamente, praticamente, sono salvate. Chiaramente poi all'uscita devo fare, quando faccio esci, faccio salva esci o salva prima, oppure me lo chiede dopo per salvare definitivamente le modifiche. Poi abbiamo la possibilità di cambiare le proprietà di un grafico, quindi per esempio i colori, andiamo a vedere insieme. Quindi proprietà, prezzo. Qui posso cambiare il grafico, se lo voglio a barre, come lo uso io, oppure a histogramma, a punti, a candele, come molti altri li usano, ok? Io preferisco le barre, che c'è anche a montagna, un sacco di altre cose, ma io lo uso principalmente a barre, talvolta a candele, ok? Poi è possibile inserire delle medie mobili, per esempio, attraverso questo menu qui, sono una serie di strumenti che si possono aggiungere, ok? Quindi per esempio, price line sul prezzo, posso avere un'indicazione del massimo e del minimo del time frame precedente, questo per esempio è time frame annuale, qui se vado sul time frame giornaliero, ok? Qui ho posizionato, per esempio, un price line mensile, allora vado qui, e questo che significa? Significa che mi dà la chiusura e l'ultima barra mensile, il massimo in particolare. Posso aggiungere price line, quindi avere anche il minimo, quindi mi dà il massimo e il minimo nell'ultima barra mensile, ok? Che è chiusa, che mi dà quindi quel dato affidabile. Posso aggiungere poi, se voglio, una zona colore tra due oggetti, quindi per esempio, il massimo e il minimo, a seconda se il trend è rialzista o rialzista, ok? Oppure, posso inserire una media mobile, attribuirgli quindi un valore, aggiungerne un'altra, attribuirgli un valore per differenza, ok? E aggiungere una zona colore, quindi tra una media mobile e un'altra, a seconda quindi, se il trend è rialzista o il bassista, per esempio, che io ho sbagliato, perché se il rialzista deve essere verde, allora io inverto poi le due medie mobili, no, scusate, una cazzata, quindi media mobile 2, media mobile 1, i colori devo cambiare, no, scusate, ok, questo qui quindi è il ribastista, quindi deve essere rosso, il rialzista deve essere verde, ok? Quindi c'è un alto livello di personalizzazione, ok? E poi c'è una marea di altri strumenti che io francamente neanche utilizzo, ok? Per esempio, se vediamo i grafici che io uso per lavorare, andiamo a prendere così qua, se poi c'è dollaro yen, sono ancora collegato al gruppo blu, gruppo verde, dollaro yen, ecco qua, ho tutti i miei strumenti, i miei livelli, massimo e minimo storico, l'andamento e la tendenza primaria, in base, i livelli sono diversi in base all'importanza, ok? Uso i livelli di azione e reazione, per esempio, per chi studia la teoria di Enverus, per esempio, ok? Questa è l'unica piattaforma che mi ha consentito di usare i livelli di azione e reazione, perché? Perché io piazzo i livelli e restano stabili sul grafico, mentre invece con la piattaforma Metatrader voi mettete i livelli e trendline e tutto, poi riaprite il giorno dopo il grafico e trovate tutto spostato, perché non è una piattaforma precisa. Invece questa è una piattaforma precisa al millimetro e uno strumento strategico eccezionale, ok? Poi avete uno strumento anche molto interessante che si chiama ProReal Trend. prendiamo un grafico di così qui vuoti cancelliamo tutti gli strumenti tutti gli oggetti ProReal Trend qui praticamente voi attivate questo strumento e vi configura in automatico quelli che sono i grafici quelli che sono i livelli scusate quelli che sono i livelli qui decidete in che modo vi li deve indicare supporto maggiore resistenza maggiore eccetera eccetera colori se mostrare appunto questo alone che indica la zona hot densità potete scegliere alta e vi indica automaticamente i livelli chiave più interessanti ok e questo è utile per imparare a tracciare i livelli per esempio qui si vedono tutti i livelli lui indica anche che questo livello è il livello mensile e questo nuovo settimanale è un lavoro che fai in automatico e aggiorna dinamicamente qui poi c'è il ProReal Trend per le Trend Line ok ed è anche utile magari se non usato nello stesso momento perché vi indica le fasi di tendenza dei Trend Line più interessanti è utile per andarsi a studiare questi incroci poi magari ne prendiamo solo alcuni tracciamo le Trend Line e poi le andiamo a chiudere se no si fa solo una grande confusione mentre i livelli questi qui possono essere lasciati sono sicuramente uno strumento interessante insomma per controllare un livello proprio ok e per imparare poi a tracciare i livelli il sistema poi li aggiorna automaticamente in base agli ultimi dati mensili settimanali giornalieri ok e vi traccia poi tutti i livelli fino ad arrivare all'intraday l'intraday veramente è comodissimo guardate traccio i livelli e vado qui per esempio su 4 ore su H1 e mi trovo già uno schema intraday bello pulito sempre più sempre più dettagliato a mano a mano che scendono nello specifico lui mi indica se il livello giornaliero se appunto del time frame di riferimento ok se mensile e questo è un grandissimo strumento ok per imparare per lavorare al training tutti i giorni bene io come vi dicevo come vi ho detto questa sera ho dovuto rimandare la sessione ieri l'ho voluta fare questa sera per non rimandarla quindi non ho altri argomenti per voi stasera volevo introdurvi un po' alla piattaforma ho anche un video realizzato dalla responsabile di editorial time che tempo fa ha fatto una meravigliosa spiegazione durante una sessione nel mio progetto Forex University magari gli chiederò se posso pubblicare il video nel canale youtube ok in modo che possiate usufruire tutti quanti perché chiaramente come ha spiegato lei la piattaforma in modo molto specifico insomma non sono in grado di fare io io posso spiegarvi la piattaforma come io la uso e in effetti gli strumenti che uso sono questi qua poi ci sono gli strumenti appunto le forme che uso per le zone di acquisto e di vendita i preavvisi ok in base all'opportunità che ho un'altra cosa interessante sono gli allarmi io posso tracciare un livello e posso configurare un allarme sul livello in modo che praticamente la piattaforma mi avvisa se praticamente quel livello è stato superato o sta per essere superato ok e quindi questa è un'altra cosa molto molto interessante ok poi ci sono tutti gli strumenti di fibonacci che adesso non è che mi ci soffermerei tanto beh semplici semplici freccettine per indicare l'allamento della tendenza questo è di uso per esempio la forca di Endius ok uno strumento veramente eccezionale per lavorare però bisogna studiare bene la teoria di Endius ecco pensata malissimo comunque ecco qualche esempio qualche configurazione sui miei grafici che uso per lavorare bene ragazzi questo è quanto per stasera settimana prossima sicuramente non ci saranno contrattempi e riuscirò a organizzare una sessione più completa per voi ok stasera abbiamo anche le iscrizioni al progetto Forex University ricordatevi che se volete partecipare potete fare l'upgrade del vostro account ok per entrare come studenti attivi e partecipare a tutte le sessioni e tutte le attività che svolgiamo all'interno del progetto ok c'è Stefano che dice Roberto dice vieni a raduno SwissQuote a Torino no non ho in programma di andare grazie Roberto di avermelo ricordato ma non ho in programma di andare a Torino Alessandro dice so che IG da questa piattaforma gratuitamente basta fare quattro operazioni al mese sì se tu diciamo che io preferisco usare questa piattaforma unicamente per uno scopo strategico non la uso per immettere gli ordini perché preferisco lavorare con SwissQuote con la piattaforma MetaTrader quindi uso la piattaforma solo per l'analisi però per esempio la piattaforma che tu vedi adesso qui è proprio la piattaforma che da IG ok per per con insomma attraverso il suo conto lo uso anche io anche se non lo uso per fare trading lo uso unicamente per la piattaforma ok quindi solo per uno scopo strategico bene Alessandro già ti sei iscritto benissimo ragazzi buona serata buon lavoro se avete domande durante le vostre esplorazioni nel trading scrivetemi pure io ho piacere di rispondervi mi serve solo qualche giorno per farlo ok e settimana prossima faremo una bellissima sessione più completa perché avrò più tempo a disposizione da dedicarvi ciao a tutti e buona serata ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti